Grazie a tutti Quella di Sabato che non ci voleva Bruciante Purtroppo era Non dico uno spareggio Ma insomma una partita molto importante Per accorciare In classifica Al Sant'Arcangelo è andata male Adesso il divario è importante 5 punti dalla terza ultima Mi sembra sia il Teramo Bisognerà fare un giugno di ritorno di corsa E non sarà facile E spero che anche il mercato Dio una mano a questa società Sì poi ne parleremo insomma Un saluto ancora a Valentina Zamagna Buonasera a tutti Una sconfitta che insomma fa male Sì è un peccato perché appunto Si stava rialzando Si stava risollevando Sant'Arcangelo Adesso è stata verificata Un'ulteriore battuta di arresto Però appunto ci sono le vacanze nataliste Per poter lavorare Con maggior slancio Cercando di appunto come diceva Cesare Correre per il girone di ritorno Sì insomma le feste saranno tra poco Per il Sant'Arcangelo Che avrà insomma da giocare altre partite Prima della fine dell'anno Abbiamo un ospite naturalmente Del Sant'Arcangelo E qui con noi l'attaccante Giallo-blu Vincenzo Tommassone Classe 95 Giusto? Sì Buonasera a tutti Che partita è stata quella di sabato Conto il Ravenna? Ma è stata una partita Combattuta Quindi Purtroppo è stata decisa dagli episodi Più che Siamo stati sfortunati E loro in alcune occasioni Soprattutto come il primo gol Molto fortunati E da lì poi È andata come è andata purtroppo Di occasioni ne avete avute? Sì Infatti è quello il rammarico Che pur avendo creato buone occasioni Alla fine abbiamo perso la partita E Abbiamo portato a casa i tre punti Che per noi In questo momento qui Sono fondamentali Soprattutto contro il Ravenna Che è una Una diretta concorrente alla salvezza Sì esatto Adesso il Ravenna è salito a quota 20 A distanza proprio di Sant'Arcangelo Di 7 punti Poi c'è stata insomma Anche questa vittoria del Fano Che raggiunge proprio il Clementini A 13 punti Cesare? Sì Nel piano campionato Deve prevedere che il Fano arrivi dietro Quindi il Fano può arrivare A pari Salire anche un punto avanti Ma il Fano bisogna mettere dietro Bisogna metterlo dietro Bisogna fare la corsa su uno almeno Di quelle che sono davanti Quindi Non sarà Non sarà facile Non sarà facile Perché il tempo Presto comincerà a stringere Perché i punti da recuperare Non sono pochi Sono curioso di chiedere da Tomassone Qual è il cambiamento più evidente Che ha visto Con il cambio di allenatore Perché anche Sant'Arcangelo Così come parlavamo prima Dei rimini Il cambio di allenatore Chiede tempo E chiede Soprattutto se l'idea di calcio Cambia radicalmente Era per capire Se l'idea di calcio di Cavaslin È molto diversa Da quella di Angelini Senza dare un giudizio Né all'uno né all'altro Ovviamente Beh come tutti i cambiamenti Alla fine Ci vuole un po' Per assorbirli Però la squadra È una squadra umile Pronta al sacrificio E La voglia di mettersi In gioco Per raggiungere l'obiettivo E quindi Anche se È fresco comunque Lo mister Siamo già nella Con la sua mentalità Quindi Anche perché Come diceva lei Il tempo stringe Quindi Dobbiamo per forza di cose Adattarci Il prima possibile A tutti i cambiamenti Che verranno Che ci saranno Che nozioni vi ha dato In questo poco tempo Il mister Cavaslin Vi ha dato qualche nozione nuova Rispetto ad Angelini Oppure ha proseguito ancora Sul lavoro Che Ha fatto il mister Precedentemente Visto che il tempo Era poco Insomma per intervenire Sì Diciamo che Inizialmente Ha voluto Diciamo Esprimerci le sue idee Le sue Il suo modo di giocare Di Di approcciarsi Alla partita E Ha lavorato molto Sulla Sulla testa E Di noi giocatori E Quindi Speriamo bene Secondo te Cesare Questo è un passo indietro Possiamo considerarlo Un episodio Isolato Questa sconfitta Visto Quello che si è visto La partita precedente Con la vittoria Del Sant'Arcangelo Conto il Mestre Secondo me È un passo indietro Perché io speravo Che La vittoria col Mestre Desse anche Quella carica E anche Far girare un po' Con la ruota Che sta girando A singhiozzo Qualche volta Contrario a Sant'Arcangelo Fin dal rizzo del campionato Sant'Arcangelo Non possiamo dire Che esprime un calcio E da una qualità tecnica Da media alta classifica Però Sta pagando Molto caramente Ogni volta Che fa un errore E sta pagando Veramente Sempre Con troppa puntualità Gli episodi È vero Che gli episodi Te li vai un po' A cercare Io ho sentito Cavazzini Dopopartita Secondo me Poteva Poteva Giustificare Un po' Di più La Diciamo Il risultato Riferendosi ad episodi E cose di questo genere C'è stato abbastanza franco Nel dire Che insomma Che ci stavano Che comunque Quando accadono C'è una mancanza Anche lì c'è un errore Anche lì c'è Un qualcosa Da correggere Cavazzini è un uomo Di carisma È un uomo Che sa farsi seguire Conosce il calcio Anche se Non allenava Più a livelli Diciamo Alti in Italia Da un pochino di tempo Però Insomma Credo che sia una persona Che possa far bene La società Dove essere brava A dargli qualche strumento In più La società A guida Brolli Non sarebbe stata in grado Secondo me Di dargli un aiuto Questa Che si sta profilando A guida Croata Speriamo Che Possa farlo Anche perché Si è assunta La responsabilità Di cambiare L'allenatore E quindi Dopo di questa L'azione Seguente È quella Di dargli Qualche Supporto Tecnico Appunto Come state vivendo Questa situazione Di questo Cambio societario Imminente Insomma Cosa ha fatto Ormai Diciamolo Sì Noi la viviamo In modo Tranquillo E Senza Apprezzione Alla fine A noi interessa Il lavoro Sul campo E Migliorarci Giorno dopo giorno Poi queste Sono cose Che non sono Di competenza Di noi giocatori Insomma Ha già dato Un'impronta Importante Perché è arrivato Insomma Ha messo mano Al portafoglio Come si dice Sì È vero Già con il fatto Un po' più di tranquillità Ve l'ha dato Sì Sì Sotto quell'aspetto lì Sì Anche il semplice fatto Che è appena arrivato Ha cambiato Allenatore Comunque è stato Un passo importante Un segnale forte Che ha dato A tutto l'ambiente Secondo te Cesare È il mister Adatto Visto insomma I cambiamenti Che si profilano Anche a livello Di giocatori Di rosa Io non so Che rapporto Di fiducia E di conoscenza Ci sia Fra Cavasin E la società Forse L'anello di congiunzione È il DS Crespini Che è una persona Che ha una grande Esperienza di calcio Sicuramente Ne conosce tanto E guarda Io non credo Che per allenare In Serie C Servano dei maghi Nel senso Che ci sono Tanti allenatori Bravi In grado Cavasin È indiscutibilmente Una persona Che conosce il calcio Non conoscerà Le tecniche Di allenamento Più sofisticate Che sono Allo studio Dei guru Della preparazione Della tattica Della tecnica Magari Magari Come si chiama L'analista Della partita Adesso ci sono Questi tecnici Che a supporto Dell'allenatore Gli dicono anche Quanti passi A destra e a sinistra Ha fatto un giocatore Ne hanno tanti L'assistente ormai Esatto Forse Cavasin È legato a una vecchia scuola Però è una scuola Che il calcio Lo conosce bene Soprattutto Credo che Come diceva Tommasone Una scuola che ha difficoltà Ha bisogno Di essere guidata Di essere stimolata Di essere caricata E lui conosce Quest'arte Secondo te Valentina Il cambio del mister Può dare quella scossa In più Per risollevarsi La può dare Io ho ascoltato Con attenzione Il dopogara L'intervista Al dopogara Del mister Mi è sembrato Una persona Che ha una grandissima competenza E anche Una grandissima capacità Diplomatica Nel senso che Nonostante la sconfitta È riuscito A mantenere la calma E anche a comunicare Una calma Rimarcando Comunque l'essenziale Cioè che la squadra Deve anche Non deve ripartire Solamente sotto L'aspetto Tecnico-tattico Ma anche Ripartire Rivalorizzando Il valore psicologico Che in questo momento All'interno Del Sant'Arcangelo È il tassello Un pochettino Più carente Quindi senza La necessità Di ricorrere a specialisti Mental coach O altro Io credo proprio Che Cavasine Che forse fanno anche più danni Che altro Io credo proprio Che appunto La vecchia maniera Di Cavasine Possa essere decisiva E determinante Per permettere A Sant'Arcangelo Di recuperare Nel minor tempo possibile Anche questi punti Che scarseggiano Sulla Sulla classifica Però ci vogliono Dei giocatori Basta il carisma Di Cavasine Ci vogliono Dei giocatori Perché sennò Si tracca Le difficoltà Secondo me Secondo te Cosa manca Vincenzo A questa squadra Per fare il salto Di qualità Domanda difficile Da giocatore Intendi A livello di Dico In mezzo al campo Cosa può Cosa Cosa vi affligge Di più Cosa vi Crea difficoltà Cosa non riuscite A fare Insomma Per raggiungere Il risultato La verità è che Alla fine Noi Ci troviamo bene In mezzo al campo Cioè nel senso Non è che abbiamo Difficoltà A intenderci Però Purtroppo Paghiamo Le disattenzioni Magari Queste cose qui Alla fine Però a livello di gioco Tra di noi Ci intendiamo E riusciamo a creare Anche buone occasioni Durante le partite Quindi Forse magari Come in tutte le squadre Magari Un po' di qualità Fa sempre Comodo Però Per il resto Non vedo Grossi lagune Parliamo un po' di te Invece Ripercorrendo Insomma La tua Giovane Carriera Sei in classe 95 Hai avuto Insomma Un'esperienza Importante A livello Giovanile Sì Nasco Nella squadra È il mio paese Il Venafro Poi all'età di 13 anni Vengo Preso dalla Lazio Dove Sono stato per tre anni Fino agli allievi nazionali E poi da lì Ho fatto Sono stato all'Inter E al Genoa Fino al Ero in comproprietà Tra Inter e Genoa Poi Finite le comproprietà Una delle due Doveva prendermi A titolo definitivo Adesso dall'Inter E poi da lì Ho iniziato Con vari prestiti A Pagani Alla Regina E quest'anno Qua al Sant'Arcangelo Come ti stai trovando Qui a Sant'Arcangelo? Bene Si lavora tranquillamente Insomma Una tifosera tranquilla Rispetto Insomma Dovevo A Reggio Calabria Che non è Di quelle più tranquille La differenza è netta Hai notato anche La differenza Tra il campionato Il girone C Il girone C È molto molto È sentito Il sud Il calcio È molto molto sentito E le piazze Lo dimostrano La domenica Allo stadio C'è C'è un'atmosfera Molto Infuocata Diciamo E Comunque sì Qua al Sant'Arcangelo È una piazza Che ti permette di lavorare Con la massima Serenità Forse anche per questo Insomma La nuova società Ha scelto Sant'Arcangelo Perché è una piazza tranquilla Sì può essere Può essere però Della nuova società Dobbiamo ancora conoscere Molte cose Quindi aspettiamo E vediamo Hanno fatto vedere Tanto quello che hanno fatto No? In Croazia Adesso dobbiamo vedere I fatti qui Comunque aver fatto È già qualcosa Io non ho dubbi Nel senso che sono Nel mondo del calcio Ci sono dei fantasmi Che appaiono Scompaiono Queste sono persone Che esistono Che hanno fatto delle cose Che fanno Dell'impresa Che fanno sport Hanno dimostrato Di farlo nel loro paese Io mi auguro Per il bene Che vogliamo tutti A Sant'Arcangelo Che veramente Possano costruire Qualcosa di solido Perché Il panorama calcistico Della nostra provincia È desolante È molto caduto E quindi C'è bisogno Di alzare un po' Il livello Della qualità Dello spettacolo Domenicale Da qualche parte Nella provincia Valentina Come vedi Questi capitali stranieri Che arrivano Anche nel calcio Locale Io li guardo Con curiosità Nel senso che Mi approccio Per la prima volta Anche a notizie Di questo genere Certo che Appunto Io forse Lo volevo dire La settimana scorsa Sono un po' Legata molto Alla mia terra Campanilista Quindi un po' Le infiltrazioni Esterofile Le guardo Con Diciamo con attenzione Stiamo a vedere I fatti Anche perché Sono quelli Che alla fine Parlano più di mille parole Però appunto Se anche Cesare Sottolinea questo fatto Che nella loro terra Anche questa società Croata Ha dimostrato Azioni di valore Speriamo che Possano trasferirle Anche sul nostro territorio Avete avuto modo Di incontrare qualcuno Della nostra società Oppure Sì 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 Abbiamo avuto modo Di Di incontrarli E abbiamo visto subito Che sono Persone Che rispettano Quello che dicono E comunque ci mettono La faccia La cosa positiva A Cesare Che sono persone Che fanno calcio No? Sì sì Ma io Non ho invece Preclusioni Per me Le persone Che arrivano Mantengono Le promesse Ed elevano Ed elevano Dall'estero Da fuori Perché uno Arriva da Aosta O da Catania A fare calcio Qui No? La storia dice Che c'è qualcosa Che non funziona Soprattutto in piazze Piccole Insomma A calcio Di secondo piano Rispetto ai grandi Tanto più Allora Quando viene Da oltre confine Però Siccome È giusto Dare fiducia È giusto Attendere I fatti E quindi Sono d'accordo Sono d'accordo con lei Che aspettiamo Guardiamo E giudichiamo Però Finora Due cose le hanno dette Due cose le hanno fatte Quindi 2 a 0 per loro Bene Adesso ci prendiamo Un attimo Una pausa Andiamo da Fisiocinetica Con la stagione fredda Iniziano i dolori Per problemi Di artrosi Traumi O incidenti sportivi A Fisiocinetica Studiamo il programma Riabilitativo Su misura per te Con la nostra esperienza E professionalità Potrai alleviare il dolore E ritrovare il benessere Centro di riabilitazione Fisiocinetica Il primo consulto È gratuito Ci trovi a Sant'Arcangelo Via Ugo Braschi 12 Gelsosport Igea Marina Domus Medica Nova Feltria E su internet Fisiocinetica.it Bene Torniamo al Campionato Di Serie C Vincenzo Qual è la squadra Che ti ha impressionato Di più? Ma Di quelle che abbiamo Affrontato Purtroppo Purtroppo Il Il Sud Tirol Cioè Quella partita Lì Avendola vista In prima persona Sono rimasto Impressionato Perché Hanno fatto Ci hanno devastato In In 90 minuti Purtroppo Forse è stata Quella La partita Più brutta Che abbiamo fatto Ci è dispiaciuto Un sacco Però Penso che Sia stata L'unica Dove Non ci abbiamo Messo mano In pratica Però nelle altre Ce la siamo già Dalla pari Alla fine Con tutte le squadre Quindi non è che Ci sia stata Una squadra Che mi abbia Impressionato In modo particolare Questo Padova Lo vedi favorito Per la vittoria finale Sì Padova che tra l'altro Cesare ha perso La scorsa giornata Sì però È qualche giornata Che il Padova Pare come Avesse Come abbia tirato Il freno a mano Ma le altre Non ne stanno Approfittando Quindi stanno Facendo il suo gioco Quando ricomincerà A vincere Saluterà tutti Bene Vincenzo Ti aspetti Di ritagliarti Più spazio Nel 2018 Visto che Per adesso Ne hai avuto poco Sì Diciamo che Per me Non è stato Un buon periodo Questo key Perché Mi sono stirato Vengo da uno stiramento Quindi sono stato fuori Un po' di tempo E Sì Spero In un 2018 Che mi permetta Di Di avere Più spazio E aiutare la squadra Nel raggiungimento Dell'obiettivo Questo 2017 Gli impegni Però non sono finiti Avete il 22 Se non sbaglio Il Pordenone E il 29 E il 29 Il Gubbio Che partite Vi aspettate Partite Dove Dovremmo Buttare il cuore Oltre l'ostacolo E prenderci I tre punti Invece Cercare di prenderli Invece L'arrivo Probabile Di nuovi giocatori È uno stimolo in più Per farsi notare Dall'allenatore Per far meglio Sì Penso di sì È competitivo Insomma La competizione La competizione In una squadra È importante Te Cesare Come la vedi Ah no Certo Io credo che Una squadra Quando è più forte È più forte In campo la domenica Ma è più forte È più qualitativo L'allenamento Quindi questo aiuta Anche durante la settimana A crescere tutti quanti Quindi Ma al di là Di tante filosofie Servono i punti Bisogna rinforzare la squadra Perché bisogna fare dei punti Adesso in attesa Che arrivino rinforzi Che comunque Il mercato sarà a gennaio Queste sono due partite Certo il Pordenone Per me è una delle squadre Più forti di questo girone È un po' indietro In classifica Se avesse almeno Battuto l'Inter Si sarebbe preso Una bella soddisfazione Magari avrebbe Sarebbe un po' Addormentato sugli allori Invece Questo rischio Non c'è E a Pordenone Non sarà facile Quella con Gubbio Diventa una partita Da bivio Del campionato Secondo me In ultima battuta Cesare Secondo te Cosa serve In mezzo al campo Cioè Quali parti del campo Servono rinforzi Sant'Arcangelo Per me Si dice sempre così Un uomo per reparto Non è la classica risposta Un uomo per reparto Un uomo per reparto Sant'Arcangelo Ha bisogno Di avere una rosa Più profonda Deve dare più scelta All'allenatore I giocatori che ci sono Sono dei buoni giocatori Possono salvarsi Però Secondo me Va aumentato il numero Di giocatori Di questo livello E qualcuno Magari di qualità superiore Quindi Con l'abbandono di Nardi L'accessione di Adorni E di altri giocatori Sant'Arcangelo Ha perso un po' La maniglia A cui attaccarsi Nei momenti di difficoltà Deve ritrovare Un po' Di questi riferimenti E nel frattempo Magari se non ci sono Di natura psicologica Trovarli di natura tecnica Ci vorrebbero Uno o due giocatori A cui aggrapparsi Un pochino Dal punto di vista Anche della qualità Ma fondamentalmente Secondo me Deve aumentare Il numero di giocatori A disposizione Bene Vincenzo Vogliamo fare un augurio Ai tifosi De Sant'Arcangelo Sì Auguro a loro E alle loro famiglie Un buon Natale Un felice anno nuovo Speriamo che questo 2018 porti Un po' Di felicità sportiva Esattamente In più Sì sì Va bene Io ti ringrazio Cesare Grazie per essere stato Con noi Auguri di buon Natale Buon anno Buon Natale Se vuoi lasciare un messaggio Facciamo veramente Tanti auguri C'è tanta gente Che ha bisogno Di tanti auguri E di passare Un Natale Finalmente Un po' più sereno In momenti Molto complicati Lo sport Qualche volta Aiuta a dimenticare I guai Che però ci sono E quindi Ebbene Che Se il Natale Può servire A rasserenare Un po' Qualche animo Lo si colga Con questo Con questo messaggio Quindi davvero Tanti auguri Ci vediamo L'anno prossimo E E buon divertimento Anche a tutti Coloro Che dovranno giocare E allenarsi E a guardare partite Da qui Alla fine dell'anno Grazie anche a te Valentino Auguri Grazie mille Giuseppe Grazie Federica Grazie Cesare Grazie anche a Roberto Che questa sera Non è presente Per la Bellissima opportunità Che mi ha regalato A partecipare A queste puntate Ci vediamo Nell'anno prossimo Nell'anno nuovo E tanti auguri Di cuore A tutti Grazie Vincenzo Per aver stato con noi E auguri ancora Grazie anche a voi Bene Noi non abbiamo ancora Terminato Torniamo tra pochissimo Dopo la pubblicità E parleremo di Krebs E di basket Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.